Salve a tutti gentili per questo nuovo video oggi vi sto parlando un video differente dal solito anche come impostazione vedete che è diversa l'ultima volta che ho fatto un video qua è stato la challenge con Jamon Boss e niente oggi non voglio parlare né di gaming né di di quant'altro riferito al videogioco o a qualche pubblico commentato io ma voglio parlare della mia esperienza in teatro cioè il ritorno in teatro dopo un bel po' di anni che non facevo teatro cioè ero bambino non lo facevo l'ultima volta e ora sono ritornato di nuovo a fare una una recita al teatro è stata una bella esperienza in pratica ho fatto due ruoli secondari perché devo fare due ruoli secondari perché devo stare anche dietro nella legge tecnica a mettere gli effetti sonori quindi io stavo dietro a mettere gli effetti sonori poi quando toccava a me andavo a fare le due parti secondari che devo fare io dico che questa esperienza è stata la più bella che abbia mai fatto e spero di farne altre perché è veramente un bel cammino fare la via del teatro è veramente una bella strada e spero che cercherò di convolgermi sempre di più dentro questa strada qua niente io ringrazio tutti tutti gli attori e il tecnico che sta vicino a me per i microfoni ringrazio tutti tutti gli attori dal calzolaio che si avvicina a me che lui impedeva c'era il suo aiutante dai due protagonisti Rosina e Andrea poi dalla mamma del trainire che non è altro che presidente dell'associazione che ha fatto questo teatro ai portulani che ringrazio anche loro l'associazione e niente vi lascio con un pezzetto della con una parte che ho fatto io il pezzetto della parte che ho fatto io e se avete tutta la la recita completa potete vi darci o le info su chi dovete contattare per avere la recita completa io vi lascio con questo spezzettone fatto col mio cellulare dalla mia postazione di di computer e niente ci vediamo alla prossima e con buon non so qualche live oppure vuoi iniziare a fare qualcosa di nuovo qualche progetto e ci vediamo alla prossima bye bye e bye grazie signor sindaco io sono l'assessora linguistica noi abbiamo bisogno di ammaternare il paese dobbiamo un mille di colture di acqua al forno e togliere la capiglia abbiamo bisogno di a gestare le scade la luce non si può stare in queste modizioni Va bene, prendiamo l'appunto e vediamo che ne c'è la disponibilità, moderneremo questo parete. Datevi la possibilità di fare. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.